Oggi conducimi le anime che sono nel carcere del purgatorio ed immergile nell'abisso della mia misericordia. I torrenti del mio sangue attenuino la loro arsura. Tutte queste anime sono molto amate da me. Ora stanno dando soddisfazione alla mia giustizia. È in tuo potere recar loro sollievo. Prendi dal tesoro della mia chiesa tutte le indulgenze ed offrile per loro. O se conoscessi i loro tormenti, offriresti continuamente per loro l'elemosina dello spirito e pagheresti i debiti che essi hanno nei confronti della mia giustizia. Grazie per la visione!